Buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai Giornali, questa è la rassegna stampa di Fano TV, il primo appuntamento della giornata con l'informazione. Abbiamo già pronti sul touchscreen i giornali, in edizione locale, però prima santo del giorno e poi previsioni del tempo. Oggi la Chiesa osserva il beato Giuseppe Tovini, sabato 16 gennaio, il sole è sorto e anzi sorgerà alle 7.38 tra pochi minuti e tramonterà alle 16.57. Giornate veramente molto corte, guardiamo il tempo che si presenta impegnativo, diciamo così, questi due giorni, questo fine settimana. Vedete anche la cartina molto eloquente, il cielo è nuvoloso, nubi stratiformi, precipitazioni al mattino e locali nevicate sui settori interni. Graduale estensione e intensificazione verso la fascia collinare e anche lungo la costa, sono previste precipitazioni nel corso del pomeriggio e anche nei settori centro-meridionali. Si abbasserà il limite verso sera delle nevicate che per questa giornata resterà a quote basso-collinari, temperature decisamente in calo, e anche il mare sarà molto mosso e agitato. Quindi insomma, veramente una giornata dal punto di vista meteorologico impegnativa e quella di domani non si presenta altrettanto meglio, anzi direi che forse peggiora lievemente, quindi il scenario è lo stesso. Il limite delle nevicate è ancora in calo, è previsto in calo a quote addirittura pianeggianti, quindi insomma, possibilità di nevicate nella giornata di domani, domenica. Ulteriore calo delle temperature e mare molto mosso, agitato. Insomma, quindi domani sarà veramente una giornata orribilis dal punto di vista meteorologico, simbologia del ghiaccio, quindi attenzione nelle prime ore della giornata, perché il ghiaccio fa la sua comparsa sulle strade, anche lunedì vedete addirittura doppia simbologia, questo ha significato insomma una maggior intensificazione ed estensione del fenomeno. Quindi vedete scompare però la simbologia delle nevicate, però ci saranno ancora precipitazioni sporadiche, temperature minime sono in stazionarie e quindi insomma la giornata di lunedì, almeno dal punto di vista delle precipitazioni, sarà una giornata un po' più tranquilla rispetto a questo weekend, a questo fine settimana. Bene, andiamo subito nelle pagine, partiamo dalla cronaca con il resto del carlino, purtroppo ancora strade insanguinate, siamo in A14, a poca distanza da un altro simile incidente, se ne è verificato un altro che riguarda appunto un tir, altro schianto in A14, un 44enne prigioniero tra le lamiere del tir, è accaduto la scorsa notte nel tratto fanese dell'A14, anche questa volta un autista, un 44enne è rimasto incastrato nelle lamiere del mezzo, ci sono volute due ore ai vigili del fuoco per tirarlo fuori, questa volta è andata peggio dal punto di vista proprio dei danni fisici a questo autista, vedete com'era ridotta la carlinga del suo mezzo, veramente immagini impressionanti. Andiamo e rimaniamo sempre nelle pagine del resto del carlino, rimaniamo su quelle di Fano, un altro argomento che è un po' un fil rouge, lo troviamo in tutti i giornali, è la sanità, che tra l'ospedale unico qui nella nostra provincia e il territorio sparso nell'Internand, che sta subendo l'Australia, della riforma di Ceriscioli, è un tema, quello della sanità, molto presente. Allora, sanità bollente, i 5 Stelle vanno all'attacco e accusano Carloni per le sue scelte, Mirko Carloni, ospedale, una fine prevista, dicono critiche, perché ha appoggiato Spacca, che voleva appunto Marche Nord, subito e immediata la replica di Carloni, i grillini, invece di parlare di salute dei cittadini, provano a screditare con attacchi personali a chi fa politica. E poi, ancora fumata nera per il Cecchi, l'Agrario a Fano, operazione impossibile, il Reci è stato un incontro appunto per l'Istituto Agrario con l'assessore regionale Bravi, un nulla di fatto, due anni quindi, ancora, insomma, da due anni che se ne parla e ancora nulla da fare. E sulla sanità e appunto sul nosocomio unico interviene uno che si è occupato di questo problema da diversi anni, da dieci anni quasi, Giancarlo Danna, l'ex consigliere, che prende atto di un atteggiamento cambiato, si può abolire il nosocomio unico con la mia legge. Queste sono le sue considerazioni. Ieri poi è stato presentato anche il progetto che riguarda tutti gli eventi per il 2016 del Comune di Fano, tante novità, un gioco d'anticipo dell'amministrazione, proprio in vista del Carnevale, di tutti i turisti che possono arrivare in questo periodo nella città di Fano. Ho presentato ieri il calendario con gli appuntamenti del Comune per la prossima estate. Si va dalle Wings a Renzo Arbore come superconsulente, eventi veramente super. Quindi l'evento clou, insomma, più in vista per la città di Fano sarà il 18 e il 19 giugno, prossimi a Lido perché arriva il villaggio delle Wings e poi i giorni della fortuna. Sono tre giorni, dall'1 al 3 luglio, sono giornate tutte fanesi, nel quale si mischieranno un po', come dire, gli elementi della fanesitudine. Si va dal Carnevale al Jazz e quindi si dà la vita al Carnival Jazz, insomma, un jazz un po' in stile New Orleans e il superconsulente, colui che darà una mano a fare un po' la quadra, è uno che in tema di musica ne capisce sicuramente qualcosa, è Renzo Arbore, la sua orchestra italiana amatissima da tutti. Rimaniamo nel Carlino, andiamo nelle pagine che riguardano Pesero. Pesero arriva anche a Pesero, quello che è arrivato qualche mese fa prima a Fano, ovvero sia la possibilità di scegliere, di donare i propri organi al rinnovo del documento di identità. Quindi donare gli organi solo con una firma, così si rinnova la carta di identità anche a Pesero. Lanciato il progetto, una scelta in comune, si parte il 20 gennaio. Nell'articolo tutti i dettagli e se uno ci ripensa, è una scelta che può essere rivista, basta rivolgersi al centro regionale Trapianti collegato alla database del sistema informativo Trapianti, quindi non è una scelta definitiva. E poi arriva, e l'abbiamo visto nelle didascalie della protezione civile, il maltempo, un'ondata di gelo artico definita dal resto del Carlino. A gennaio, giustamente, arriva questo botta di freddo, perché gennaio fa il suo mestiere, zero termico anche sulla costa, ma di neve se ne vedrà pochina. Crollo termico da qui ai prossimi quattro giorni, temperatura impicchiata, venti sferzanti e sparse precipitazioni. Quindi occhio al meteo e rimaniamo nella pagina che riguarda Pesaro del resto del Carlino, che parla di un evento a livello nazionale, che ha un respiro però internazionale, visti gli artisti che sono in arrivo. Si tratta della convention Fiera di Campanara, che parla di tatuaggi e street art da tutta Italia, per vedere i big del tatuaggio, oggi e domani spettacoli del centro coreografico di danza, però potrete ammirare anche i funamboli del parkour. Questi ragazzi sono dei campioni a livello mondiale, che fanno delle evoluzioni veramente funamboliche, e poi insomma anche star della musica come Ghepe Kenio, quindi al International Tattoo Expo di Pesaro. Andiamo nelle pagine di Pesaro, sempre però per il Corriere Adriatico, cambiamo testata, si parla di un albergo al posto della Rotonda Bruscoli, sostanziale accordo anche se resta il problema della ripartizione nell'area tra comune e capitanerie. In testa si parla di politica, critiche stellari, in ambito di politica si parla di pentastellati o stellati o stellari, quando si parla di 5 Stelle, rivolte all'assessore Vimini e alla Fondazione Cultura, perché i 5 Stelle dicono che è un'amministrazione un po' auto-referenziale, questa è l'accusa che rivolgono all'amministrazione e a Vimini. Ma, dicevo, anche il Corriere Adriatico non è, insomma, scevolo dal mettere la sanità al centro dei propri articoli, in taglio centrale, appunto, nella pagina di Peseo Urbino, Ceriscioli rimuova chi ha sbagliato, parla l'ononevole Morani, che rassicura i sindaci nei tre ospedali, tutto tornerà come prima. E su questo episodio, avete visto anche ieri nel nostro telegiornale, Occhio alla Notizia, siamo stati nuovamente a Sasso Corvaro, Cotini, Ivan Cotini, per protesta, brucia i farmaci, salva vita, anche lui davanti a Lancisi, e oggi a Urbino c'è la conferenza dei sindaci dell'area vasta alla presenza del governatore. Ancora Corriere Adriatico, però la pagina che riguarda Fano è cronaca, rapina l'amica della fidanzata, è stato fermato uno spacciatore che sottrae un portafoglio e poi una collana, l'amica della sua fidanzata, picchia la vittima, diciottenne di Fabriano, una ragazza di Fabriano che poi lo denuncia e grazie a questa denuncia si è arrivati all'arresto. È un tunisino senza fissa dimora, vive in un garage più o meno nella zona di Gimarra dove faceva anche dello spaccio e riforniva i suoi, diciamo così, clienti e grazie a questa denuncia di questa ragazza è stato arrestato. La ragazza alla stazione stava prestando 20 euro o un'altra ragazza e poi insomma è stata rapinata dallo spacciatore. E nelle pagine di Fano si parla appunto anche qui della vicenda che riguarda i due ospedali Fano e Pesero, Marche Nord deve essere abolita appunto appello ai sindaci di Danna per risolvere il problema della mancata integrazione e quindi insomma articoli per documentarsi anche sulle varie sfaccettature di questa vicenda. Andiamo anche nella città limitrofa di Senigallia qui vicino a vedere di che cosa si parla è una pagina quella del Corriere Adriatico che riguarda Senigallia tutta improntata sulle infrastrutture, si parla del ex area satellite che è un'incompiuta di Senigallia ed è pronto a modificare il progetto l'architetto portoghesi che si auspica un rilancio del borgo delle torri accetterà la sfida, quindi l'architetto vuole metterci le mani e rivedere quel progetto e poi anche qui una riqualificazione Hotel Marche più ex IAT così si può fare, c'è una cordata un gruppo di imprenditori interessati ad entrambi gli immobili ma lo sconto della provincia pare non essere così poi allettante e vi segnalo qui nella pagina di Senigallia qualcosa che riguarda il traffico e quindi amici senigalliesi prestate attenzione a questo articolo perché sono in vista delle modifiche il traffico e lo smog sono un problema anche nella città della sabbia dorata manca solo la data anche se ormai è scattato il conto alla rovescia giro di vite al traffico di auto e arriva un'ordinanza anti-smog probabilmente arriverà la prossima settimana o al massimo lunedì 25 gennaio e riguarderà le automobili diesel pre-euro e quindi attenzione per la prossima settimana guardate cosa dicono i vigili urbani di Senigallia Pesaro andiamo nelle pagine del messaggero appunto in primo piano in grande evidenza sanità mea culpa di Ceriscioli oggi a Urbino il governatore affronta i sindaci il PD pesarese chiede la rimozione dei tecnici vediamo anche più in basso apre un superstore Conad novità a riguardo e poi nasce Ittico Art Lab il laboratorio a misura di bambino ospiterà corsi d'arte contemporanea musicoterapia letture animate grafica e cucina oggi c'è l'inaugurazione a Pesaro e poi il meteo che ci dice appunto neve in collina e gelida bora il vento di bora insomma che sferza la costa e allora vediamo insomma gli articoli che riguardano l'aspetto della sanità forse andava gestita meglio questa è il mea culpa di Ceriscioli sanità appunto Ceriscioli usa questo fraseggio il governatore dice la riforma però deve andare avanti ma ora serve un accompagnamento e poi vediamo di che cosa si tratta per questo accompagnamento critiche velate però all'operato dei tecnici il PD pesarese ne ha chiesto la rimozione e il segretario Comi dice se non si procede si perdono milioni dobbiamo però confrontarci e informare Massimo Seri dice appunto sull'ospedale unico non credo che sia una priorità Marco Marchetti del PD dice si è accelerato troppo l'errore appunto è dei tecnici quindi sono loro sul banco degli imputati allora perché era una buona notizia quella dell'apertura del Superstore Conad perché ci sono 40 referenze che potranno trovare lavoro 40 assunzioni il Conad annuncia l'operazione da 8 milioni alla celletta dovremo lavorare daremo, chiedo scusa lavoro a persone del territorio a mesi, fra pochi mesi ci sarà la selezione insomma 40 posti di lavoro così d'amblè non sono pochi la struttura comprenderà 1600 metri di area di vendita è un parcheggio con 200 posti quindi insomma veramente molto grande appunto anche qui il lancio dell'iniziativa del Comune sulla donazione degli organi l'ultima pagina che vi faccio come di consueto vedere è quella che riguarda Fano è l'annuncio della insomma città della fortuna che gioca in anticipo con il suo calendario eventi città scommette appunto sui giorni della fortuna i giorni che interpreteranno la fanesitudine pronto il calendario degli eventi estivi per la prima volta sarà distribuito già in occasione dei corsi mascherati una scelta direi sicuramente strategica appunto in questi giorni ci sarà una sfilata jazz in stile New Orleans con l'aiuto di Renzo Arbore ingloberà la notte rosa la notte dei saldi e tutto questo movimento non riguarderà soltanto la zona del Lido ma anche la zona del centro insomma sarà una una specie di onda gioiosa che invaderà tutto il centro e tutta la città di Fano Viareggio a Fano le due feste gemellate la delegazione toscana aprirà la sfilata l'invito dell'ente carnevalesca è stato raccolto con piacere la collaborazione darà sicuramente sicuramente i suoi frutti anche qui a pie pagina la rapina e l'arresto dello spacciatore rapina l'amica della sua ragazza i carabinieri hanno bloccato lo spacciatore e lo accusano di aver picchiato e derubato la studentessa il soprannome di questo spacciatore era lo sporco molto conosciuto dicono gli articolisti dei giornali nell'ambiente bene questa era l'ultima notizia l'ultima pagina che vi facevo vedere grazie per essere stati in nostra compagnia nella rassegna stampa di Fano TV occhio ai giornali che tornerà naturalmente lunedì mattina puntuale alle 7.30 e questa sera occhio alla notizia ma c'è sempre il nostro sito e le nostre pagine web per essere aggiornati in tempo reale buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti